Giuseppe Garibaldi e la spedizione dei Mille La cosiddetta spedizione dei Mille è forse l'episodio più celebre e più a suo modo leggendario, epico, del risorgimento italiano. Fu, tra l'altro, anche una delle poche occasioni nelle quali gli eventi del nostro risorgimento videro un autentico e generale coinvolgimento delle popolazioni in questo movimento di creazione della unità nazionale italiana. Il popolo partecipò in prima persona, le masse popolari parteciparono in prima persona con grandi aspettative, aspettative come vedremo di buona parte deluse a questa vicenda. Anziché se vogliamo parlare di un risorgimento dal basso, cioè di un risorgimento che vede come sue protagoniste le masse popolari dobbiamo fare riferimento soprattutto appunto alla avventura garibaldina del 1860. E da dove comincia tutto? Tutto comincia nella primavera di quell'anno, del 1860. Proviamo un attimo a far mente locale sulla situazione della penisola italiana Alla fine di marzo di quell'anno, alla fine del marzo del 1860, la situazione in Italia dopo la fine improvvisa della seconda guerra dell'indipendenza, l'11 luglio del 1859 con l'armistizio di Villafranca, dicevo nel marzo, alla fine di marzo del 1860, la situazione italiana sembra essersi stabilizzata. In Italia centro-settentrionale, in seguito alle vicende della seconda guerra di indipendenza e in seguito agli sviluppi innescati da queste vicende si è costituito appunto nelle regioni centro-settentrionali della nostra penisola un nuovo regno dell'alta Italia che include nei suoi confini il Piemonte, la Val d'Arosta, la Liguria, la Sardegna ossia i territori del precedente regno di Sardegna più la Lombardia, la Toscana e l'Emilia-Romagna Lombardia acquisita appunto per effetto delle vittorie ottenute nella seconda guerra di indipendenza Toscana ed Emilia-Romagna che si sono poi aggregate al regno di Sardegna per costituire con la Lombardia un regno dell'alta Italia con la Lombardia e appunto i territori del vecchio regno di Sardegna Toscana ed Emilia-Romagna che si sono aggregate a questo nuovo regno in forza delle insurrezioni liberali che hanno fatto sì che ai governi precedenti appunto subentrasse subentrasse la sovranità di Casa Savoia la sovranità di Vittorio Emanuele II il tutto confermato, ratificato con dei plebisciti plebisciti che poi erano stati celebrati anche all'indomani del passaggio di alcuni territori prima sottoposti alla sovranità sabauda alla sovranità di Casa Savoia ossia appunto alla regione della Savoia e la città di Nizza che per compenso erano stati attribuiti alla Francia ecco, questo è il quadro dal quale occorre partire per contestualizzare l'avvio della impresa garibaldina alla fine di marzo del 1860 la situazione che ho appena descritto sembra essersi stabilizzata sembra essersi consolidata pare insomma che a questo punto lo sviluppo delle cose debba almeno per qualche tempo fermarsi lì non è affatto così perché c'è chi invece pensa di portare avanti questo sviluppo e di ripartire immediatamente per compiere un nuovo fondamentale passo in avanti sulla via della costruzione dell'unità italiana e questo qualcuno è Giuseppe Garibaldi una delle personalità più importanti del nostro risorgimento se Cavour è la mente del risorgimento italiano certamente Garibaldi è il braccio è l'uomo d'azione che con le sue iniziative con la sua intraprendenza con il suo coraggio e possiamo anche dire con una certa dose di irresponsabilità rompe gli indugi e passa alla azione alla figura di Garibaldi sono state dedicate e continuano ad essere dedicate opere anche di notevole consistenza come si vede è un personaggio che davvero attira l'attenzione degli storici degli scrittori un personaggio che non smette di interessare e di affascinare tanto avventurosa e tanto coinvolgente e la sua biografia quelli che vi sto mostrando sono soltanto alcuni dei titoli dedicati al cosiddetto eroe dei due mondi e perché eroe dei due mondi perché in anni più giovanili prima di diventare il grande protagonista delle vicende cruciali del nostro risorgimento uno dei grandi protagonisti Garibaldi da esule da esule per motivi politici aveva combattuto alla testa a capo di un gruppo di altri esuli italiani per la liberazione di alcuni paesi dell'America meridionale per esempio l'Uruguay e già in quelle vicende si era segnalato per il suo ardimento per il suo coraggio per la sua capacità di azione per le sue doti appunto di guerrigliero tornato in Italia alle prime avvisaglie delle vicende quarantottesche e della prima guerra di indipendenza poi aveva cominciato a recitare un ruolo di primo attore di protagonista in queste vicende lo troviamo impegnato già nel corso appunto della prima guerra di indipendenza poi successivamente nella difesa della effimera repubblica romana creata da Mazzini nel 1849 al termine della quale con una fuga avventura 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 avventurosissima e anche piuttosto drammatica Garibaldi era riuscito a sfuggire all'inseguimento dei gendarmi austriaci perdendo perdendo sua moglie Anita una giovane donna brasiliana che gli aveva dato tre figli proprio nel corso di questa fuga Anita era morta sfinita dalla fatica e dalla malattia mentre accompagnava Garibaldi in questa sua ritirata e dopodiché Garibaldi allontanatosi dall'Italia per qualche anno era rientrato nel nostro paese per prendere parte alla seconda guerra di indipendenza alla guida di una formazione militare specificamente affidata poi la seconda guerra di indipendenza come sappiamo finisce a Villafranca all'indomani della battaglia di San Martino e Solferino ma Garibaldi non smette di coltivare progetti diciamo progetti insurrezionali e infatti nei primi giorni di maggio del 1860 1860 prende avvio la straordinaria spedizione dei mille quando si parla dei mille di chi si parla si parla di una piccolo piccolo esercito di volontari guidati appunto da Garibaldi Garibaldi che non dimentichiamolo era originario di Nizza la città da poco ceduta da Cavour alla Francia di Napoleone III in cambio dell'assenso da parte di Napoleone III dell'imperatore dei francesi all'allargamento molto consistente del regno di Sardegna e alla sua trasformazione in regno dell'alta Italia Nizza assieme alla regione della Savoia era passata alla Francia proprio nel marzo del 1860 e la cosa aveva naturalmente fatto mandare su tutte le furie Garibaldi la sua città natale che lui considerava italianissima trasformata di punta in bianco in una città straniera e questo naturalmente non contribuiva ai suoi buoni rapporti con Cavour bene dicevamo che agli inizi di maggio e precisamente il 5 maggio del 1860 Garibaldi postarsi a capo del suo piccolo esercito di volontari si imbarca per la più incredibile delle sue avventure i circa mille volontari Garibaldini tra di loro per la verità c'era anche una donna appunto che sotto mentite spoglie prendeva parte a questa iniziativa i circa mille volontari dicevo gli inizi di maggio precisamente il 5 maggio del 1860 si imbarcano sotto la guida del condottiero Nizzardo cioè nativo di Nizza su due piroscafi appositamente sequestrati appositamente requisiti in questo modo armati di fucili decisamente obsoleti cioè decisamente diciamo poco efficienti ormai antiquati decidono di sfidare la sorte contando sull'appoggio delle popolazioni locali delle popolazioni locali del regno delle due Sicilie infatti l'obiettivo di Garibaldi e dei suoi circa mille volontari che verranno soprannominati anche le camicie rosse perché la loro la divisa di questo piccolo esercito privato condotto da Garibaldi era costituita appunto da una camicia rossa dicevo l'obiettivo della spedizione dei mille della spedizione Garibaldina della spedizione delle camicie rosse è quello niente meno che di andare alla conquista di uno stato che in quel momento sembra ancora perfettamente vivo e vegeto perfettamente funzionante e soprattutto dotato di un esercito molto numeroso molto più numeroso e molto più consistente comunque dei mille volontari Garibaldini i soldati dell'esercito borbonico dell'esercito di Ferdinando II di Borbone re delle due Sicilie erano varie decine di migliaia armati ed equipaggiati di tutto punto e quindi compiere un'impresa del genere tentare una simile iniziativa significa davvero compiere un azzardo comunque sia meno di una settimana dopo la partenza da Quarto una località non molto distante da Genova in Liguria il 5 maggio del 1860 i due piroscavi carichi di volontari Garibaldini approdano sull'estremo lembo sudorientale della Sicilia a Marsala in provincia di Trapani e qui inizia l'incredibile avventura che vi sto raccontando una volta sbarcati a Marsala tra l'altro con la protezione della flotta britannica i Garibaldini per quanto stupefacente la cosa possa apparire passano di vittoria in vittoria sbaragliando un esercito come dicevo molto più numeroso e molto meglio attrezzato dal punto di vista dell'equipaggiamento e dell'armatura già nel giugno del 1860 Garibaldi e i suoi uomini sono a Palermo già nel luglio di quell'anno hanno varcato lo stretto di Sicilia e hanno lo stretto di Messina e hanno sono approdati in Calabria e già ai primi di settembre del 1860 Garibaldi è trionfalmente accolto dalla popolazione napoletana mentre Francesco II di Borbone sua moglie e la sua corte sono costretti a allontanarsi da Napoli dalla capitale del regno delle due Sicilie per asseragliarsi nella fortezza di Gaeta quindi quella di Garibaldi che poteva essere davvero un'impresa suicida come lo erano stati tentativi precedenti di appunto innescare una rivoluzione in Italia meridionale nel regno delle due Sicilie quella di Garibaldi si è trasformata in una marcia trionfale e a tutti gli effetti quella di Garibaldi nel regno delle due Sicilie è stata una vera e propria rivoluzione Garibaldi non operava a nome e per conto di qualche stato che avesse dichiarato guerra al regno delle due Sicilie Garibaldi operava improprio era come dicevo la guida il capo il condottiero di un piccolissimo esercito privato non aveva avuto l'autorizzazione di nessuno di nessun governo per compiere questa iniziativa era quindi un'avventura della quale lui si assumeva tutto il rischio e tutta la responsabilità ma è una scommessa vinta è una rivoluzione quella di Garibaldi non solo perché appunto Garibaldi non agisce a nome per conto di nessuno stato e di nessun governo Garibaldi non è il comandante di un esercito regolare che faccia guerra ad un altro stato perché a questo stato è stata dichiarata guerra da qualche governo ma è una rivoluzione quella di Garibaldi anche perché l'arrivo dei Garibaldini l'arrivo delle camicie rosse appunto innesca in Sicilia e poi nel resto dell'Italia meridionale la sollevazione l'insurrezione e l'entusiasmo la partecipazione entusiasta come dicevo di folte masse di popolani e di popolani che appunto insorgano contro il governo borbonico contro re Ferdinando secondo e quindi vanno progressivamente a ingrossare le file dei Garibaldini quei mille originari man mano che l'avanzata di Garibaldi dei suoi uomini procede diventano parecchie migliaia anzi varie decine di migliaia appunto con l'affluire nelle loro file di di nuovi rinforzi provenienti dai dal popolo meridionale e di altri che invece affluiscono dalle varie parti d'Italia attratti dalle notizie che vengono dalle province meridionali quindi è proprio un effetto valanga quello che si produce con il progressivo avanzare dei Garibaldini e il progressivo arretrare dei soldati borbonici una volta insediato in Sicilia Garibaldi si autoproclama dittatore provvisorio del regno delle due Sicilie dittatore provvisorio in attesa di ulteriori sviluppi e poi come ho detto procede fino a Napoli e che cosa ha aiutato ha facilitato il cammino dei Garibaldini verso Napoli che cosa ha reso possibile una cosa così inimmaginabile in partenza vale a dire un trionfo che nel giro di meno di quattro mesi ha portato Garibaldi a impadronirsi di un intero stato alla guida almeno inizialmente in pratica di un pugno di uomini e ciò che ha appunto facilitato e reso possibile il successo Garibaldino è stato essenzialmente il sostegno che Garibaldi e i suoi uomini hanno avuto da parte di varie componenti della società meridionale in primo luogo come dicevo i contadini i contadini che si aspettavano molto dai nuovi venuti i contadini che accolgono con entusiasmo Garibaldi e i suoi perché hanno fiducia nel fatto che questi nuovi venuti possano cambiare le loro condizioni di vita loro dei contadini naturalmente i contadini meridionali i contadini siciliani in primo luogo si aspettano che il cambio di regime il cambio di governo l'abbattimento della monarchia borbonica recchi con sé anche una redistribuzione delle terre cioè che le terre vengano in buona parte requisite ai loro ricchi proprietari ai lati fondisti cioè i grandi proprietari terrieri che le coltivano poco e male e vengano suddivise tra i contadini poveri consentendo loro appunto qualche opportunità di una vita meno miserabile viceversa però i grandi proprietari terrieri e più in generale le classi privilegiate meridionali anche loro accolgono con favore l'arrivo dei garibaldini ma con uno scopo con delle intenzioni e delle aspettative completamente opposte i grandi proprietari terrieri e più in generale gli esponenti dei ceti privilegiati sperano che l'inclusione del regno delle due Sicilie in un nuovo regno d'Italia finisca in realtà per garantire meglio e per tutelare e conservare meglio appunto i privilegi sociali di cui essi godono insomma i ricchi proprietari terrieri e gli esponenti dei ceti privilegiati ritengono che una monarchia sabauda e uno stato più forte siano meglio in grado di proteggere appunto le ricchezze e i privilegi di cui queste classi sociali godono rispetto a quello che aveva dimostrato di saper fare un re delle due Sicilie ormai politicamente indebolito e delegittimato e in ogni caso evidentemente in difficoltà nel mantenere l'ordine nel suo regno e quindi sono classi sociali diverse animate da aspettative contrastanti che però per un motivo o per l'altro per una ragione o per l'altra appoggiano l'impresa garibaldina e a un certo punto però questo equivoco esploderà e quando i contadini meridionali in primo luogo i contadini siciliani appunto tenteranno di diciamo far valere far valere i loro diritti e le loro rivendicazioni verranno duramente e drammaticamente repressi perché ma perché la preoccupazione principale di garibaldi e dei suoi uomini più che quella di realizzare grandi riforme economiche e grandi riforme sociali era quella di arrivare il più presto possibile il più rapidamente possibile alla conquista dell'intero regno delle due Sicilie per poi eventualmente andare ancora avanti e quindi non c'era tempo e non c'era modo e non c'era nemmeno desiderio di soffermarsi ad accogliere le richieste della povera gente e a organizzare diciamo la redistribuzione delle terre faccio un esempio eloquente a questo riguardo nell'agosto del 1860 tra l'altro quando Garibaldi si trova già in vista di Napoli nell'agosto del 1860 a Bronte in Sicilia in provincia di Catania nella parte settentrionale della Sicilia i contadini appunto insorgono per reclamare per sé della terra immaginando che i Garibaldini rimasti a presidiare la Sicilia li appoggiano li appoggino in realtà accade esattamente il contrario il braccio destro il luogotenente numero uno di Garibaldi che si chiama Nino Bixio accorre immediatamente a Bronte e soffoca nel sangue questa insurrezione in base al principio secondo il quale l'ordine non deve in nessun modo essere turbato da niente e da nessuno fin tanto che appunto l'iniziativa Garibaldina di conquista del regno delle sue Sicilie è ancora in atto è ancora in pieno svolgimento e quindi quei poveri contadini sono amaramente delusi sono tragicamente risvegliati dal loro sogno di giustizia e di libertà all'episodio di Bronte tra l'altro sono stati dedicati molti importanti studi il più recente è questo ma andiamo avanti andiamo avanti Garibaldi come dicevo arriva a Napoli nel settembre del 1860 e una volta arrivato a Napoli ha di fronte a sé due compiti e due questioni aperte la prima più facile e più semplice da risolvere e la seconda decisamente più complessa anzitutto anzitutto si tratta di completare la conquista del regno di Napoli manca ancora qualche piccola tessera diciamo alla conquista integrale dei territori del regno delle due Sicilie ma questo è il problema minore il problema maggiore è un altro cioè cosa fare dopo avere conquistato in modo così spettacolare il regno borbonico e qui le alternative sono diverse Garibaldi è tentato di proseguire sullo slancio del suo trionfo di invadere i territori confinanti dello stato della chiesa e di spingersi fino a Roma cacciare il papa e qui decidere il da farsi e in questa direzione che lo esorta a muoversi Giuseppe Mazzini Giuseppe Mazzini piombato come un falco da Londra dove si trovava esiliato è giunto a Napoli proprio nel settembre del 1860 Mazzini vorrebbe che Garibaldi non si fermasse al regno delle due Sicilie riprendesse fiato ed energie e poi si spingesse fino a Roma azzerasse lo stato della chiesa e una volta arrivato a Roma Garibaldi ponesse la questione la questione di cosa fare dell'Italia creare un'Italia monarchica o un'Italia repubblicana ovviamente Mazzini punta sull'ipotesi repubblicana in ogni caso Mazzini scongiura Garibaldi di non fermarsi lì di non ascoltare altre voci e di completare l'opera andando alla conquista anche di quel che rimane dello stato della chiesa ma Garibaldi è piuttosto incerto sa bene quali sono i rischi di questo nuovo eventuale ulteriore azzardo Garibaldi sa che se provasse a mettere le mani anche sullo stato della chiesa quasi certamente provocherebbe l'intervento a difesa appunto dello stato della chiesa dello stato pontificio a difesa degli interessi del papa Pio IX provocherebbe quasi certamente l'intervento di Napoleone III imperatore dei francesi che si era appunto dato il ruolo di protettore difensore degli interessi del papa quel ruolo che Napoleone III aveva già svolto nel 1849 quando ancora presidente della repubblica francese aveva mandato i soldati francesi a bombardare la repubblica romana di Giuseppe Garibaldi di Giuseppe Mazzini ma difesa da Giuseppe Garibaldi bene e quindi Garibaldi mentre completa appunto la conquista del regno delle due Sicilie è piuttosto titubante sui passi ulteriori da compiere e nel frattempo siamo nel settembre del 1860 decide di entrare nella partita il personaggio decisivo che ancora una volta Camillo Benso di Cavour Cavour a questo punto decide che è venuto il momento di raccogliere i frutti dell'iniziativa garibaldina quando Garibaldi era partito aveva dato inizio alla sua spedizione dei Mille Cavour aveva praticamente finto di non saperne nulla aveva lasciato fare manifestando ufficialmente la propria ferma contrarietà a qualsiasi avventura rivoluzionaria ma in realtà sotto sotto consentendo a Garibaldi di agire di muoversi con questa riserva con questa considerazione se Garibaldi fosse stato sconfitto sarebbe stato facile addossare soltanto a lui soltanto a Garibaldi la colpa la responsabilità di questo disastro qualora invece cosa che Cavour riteneva all'epoca estremamente improbabile Garibaldi avesse avuto successo allora si sarebbe potuto diciamo sfruttare questo successo negli interessi della dinastia dei Savoia e in direzione della creazione di un regno d'Italia a guida moderata a guida liberale moderata e posto sotto la sovranità dei Savoia nella persona di Vittorio Emanuele II bene a questo punto è venuto il momento per Cavour di intervenire di cogliere i frutti inaspettati della iniziativa garibaldina e come lavora Cavour a questo fine Cavour a questo fine a questo scopo lavora dando fondo a tutte le sue formidabili capacità di uomo politico e di diplomatico si mette in contatto con Napoleone III e lo convince che l'unico modo per salvare almeno in parte lo Stato della Chiesa e per difendere almeno in parte gli interessi del Papa è questo lasciare che Re Vittorio Emanuele II di Savoia che Re Vittorio Emanuele II alla guida dell'esercito del Regno dell'Alta Italia scenda verso l'Italia meridionale a intercettare a fermare a bloccare Garibaldi prima che Garibaldi sconfini nei territori dello Stato della Chiesa nei territori del Papa tutto questo però avrebbe un prezzo per andare a fermare Garibaldi per andare a convincere Garibaldi a non proseguire oltre Vittorio Emanuele II alla guida del proprio esercito dovrebbe necessariamente invadere una parte dello Stato Pontificio dello Stato della Chiesa e precisamente le regioni delle Marche e dell'Umbria e una volta dopo avere invaso col suo esercito queste regioni certamente non le restituirebbe al Papa Napoleone III riflette un po' su questa proposta di Cavour e alla fine si convince che forse è l'ipotesi meno dannosa per il Papa certo costerebbe al Papa la rinuncia a due nuovi pezzi importanti del suo Stato le Marche e l'Umbria ma almeno gli consentirebbe di salvare diciamo la parte più importante il nocciolo duro del suo regno cioè il Lazio con Roma e alla fine Napoleone III si è pure piuttosto controvoglia acconsente ecco allora che nel settembre fra il settembre e l'ottobre del 1860 l'operazione scatta Vittorio Emanuele II a capo del suo esercito entra nei territori dello Stato della Chiesa si impadronisce delle Marche e dell'Umbria e va incontro a Garibaldi nel frattempo Garibaldi fra il settembre e l'ottobre del 1860 completa l'opera della conquista del regno delle due Sicilie e combatte ai primi di ottobre l'ultima grande battaglia contro quel che rimane dell'esercito borbonico sulle rive del fiume Volturno in Campania settentrionale dopodiché avviene questo grande rendezvous questo grande incontro diciamo questo appuntamento tra Garibaldi e re Vittorio Emanuele II che si ritrovano nei pressi del della paese di Teano Teano non molto lontano non molto distante dal confine tra la Campania e il Lazio quindi alla fine Garibaldi si adatta a seguire diciamo le a conformarsi ai piani ai disegni di Cavour e consegna nelle mani di Vittorio Emanuele II tutte le sue conquiste dopodiché si ritira un po' con un po' di malinconia pensando alle opportunità che forse si è lasciato perdere si è lasciato sfuggire si ritira nella sua isoletta sarda di Caprera dove ha costruito diciamo il suo rifugio personale la sua residenza privata quindi di colpo Vittorio Emanuele II si ritrova in mano questo nuovo insieme di territori e di popolazioni su cui governare due nuove regioni dell'Italia centrale e soprattutto tutti i territori dell'ormai ex regno delle due Sicilie questo punto dunque non resta che come al solito indire istituire dei plebisciti per convalidare il cambio di situazione il passaggio di sovranità plebisciti che si celebrano nel novembre del 1860 e che ovviamente sortiscono un esito travolgentemente favorevole alla annessione al nuovo regno e sulla base sulla scorta di queste premesse il 17 marzo del 1861 un nuovo parlamento eletto riunitosi a Torino capitale proclama la ufficialmente la nascita del regno d'Italia l'Italia come stato nazionale unito indipendente libero nasce il 17 marzo del 1861 la sua prima capitale è Torino il primo parlamento italiano come suo primo atto appunto proclama la nascita dello stato nazionale italiano sotto forma di regno d'Italia e naturalmente dal punto di vista territoriale lo stato nazionale italiano deve ancora completare la sua unificazione gli mancano ancora alcune regioni che non possono non essere incluse in uno stato nazionale italiano vale a dire il Veneto il Trentino il Friuli Venezia Giulia cioè le cosiddette tre Venezie nel nord est della nostra penisola e al centro nel cuore della nostra penisola il Lazio con Roma che sono ancora sottoposti alla sovranità del Papa e quindi diciamo il puzzle italiano deve ancora attendere le ultime tessere il risorgimento italiano che tocca il suo punto culminante il suo punto di svolta fondamentale fra il 1859 e il 1860 non si è però ancora concluso quindi prossimamente ricostruiremo le tappe ulteriori di questo cammino di questo processo risorgimentale grazie dunque e alla prossima grazie 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 Grazie.